Avvicinare i giovani alla ricerca scientifica non è solo un contributo alla loro crescita culturale, significa anche offrire prospettive nuove per un mondo in cui l'innovazione rappresenta il principale, se non l'unico, strumento di crescita economica e sociale di un territorio. È con questo spirito che nel mese di maggio il Polo di Ricerca e Innovazione Neurobiotech di Caserta aprirà le sue porte a circa 200 studenti di scuole medie e superiori campane in un ciclo di visite dei laboratori e di dialogo con i ricercatori. Appuntamento dunque per le mattinate del 7 e dell'11 e nel pomeriggio del 15 maggio presso il Polo di Caserta. Dalla diagnostica avanzata alle prospettive della neurocibernetica con il progetto Cyberbrain, la visita sarà l'occasione per incontrare una ricerca di frontiera come quella dell'interfaccia tra cervello e computer. Allo stesso tempo le prospettive offerte dall'epigenetica assieme alle tecniche di indagine Big Data offriranno gli spunti per una riflessione accurata sul concetto di medicina personalizzata che rappresenta l'evoluzione più promettente per la medicina dei prossimi decenni.